Mi dici che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi. È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per far trovare uno sbocco a questi capitali e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.